Benvenuto in scelta del prodotto. In questo video discutiamo del migliori occhiali polarizzati. Ho fatto questa lista sulla base della mia ricerca personale e opinione, e ho cercato di registrarlo in base al suo prezzo, qualità, durata e altro ancora. Se vuoi vedere il prezzo e saperne di più su questo prodotti, puoi che cut link qui sotto nella descrizione qui sotto. Al quinto posto, abbiamo la Cresirio. Sono equipaggiati con una quadricromata rivestita in gomma, molto morbida al tatto e molto facile da indossare, con la lungimiranza di non lasciarla al sole, altrimenti sarà certamente scongelato. La fattura sembra essere esatta, così come il programma di diverse tonalità per il quadro e anche le lenti. Gli ultimi sono ugualmente legittimi nei problemi di luce mostrata, come può accadere per coloro che praticano attività esterne. Tuttavia, è essenziale esaminare il calibro. Al numero 4, abbiamo Ray-Ban. Se ti piace rimanere sempre in ordine e prendersi cura del tuo stile, gli occhiali da sole polarizzati possono anche essere un aspetto che può arricchire il tuo abbigliamento. Diventato popolare grazie a film come le Adingon, il Ray-Ban Aviator è stato in realtà sempre un design tra i venditori più efficaci. La versione large è adatta per coloro che hanno un viso specificamente enorme e anche non solo totalmente per i ragazzi. È importante misurare la pina e confermare che il ponte e anche la distanza tra gli occhi è giusta per il viso. Al terzo posto, abbiamo la Rivacci Clubmaster. Se sei un seguace del film The Blues Brothers, vai a fare se sono probabilmente i tuoi occhiali da sole preferiti. Dal confronto di numerosi disegni, abbiamo individuato che quelli di Rivacci sono tra le celebrazioni che non possono essere quit, offerti davvero a prezzi accessibili. Questi occhiali polarizzati seguono i requisiti C e i tuoi occhi non rischieranno quindi di controllare un articolo scadente. Allo stesso modo hanno protezione U400 sia per i raggi UVA che UVB. Al numero 2, abbiamo il Polaroid. Se siete alla ricerca di offerte che possono aiutare a risparmiare denaro, i migliori occhiali polarizzati per voi sono quelli da Polaroid. L'azienda, nota nel campo della fotografia, offre una versione offerta in vari colori, ad un ritmo estremamente competitivo, in particolare nonostante la sua alta qualità. Il quadro morbido e facilmente adattabile rimane in realtà davvero difficile da danneggiare, molto per assicurarsi che sia apprezzato dai motociclisti che non sempre scoprono un prodotto adatto al copricapo. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo l'error cancelletto N barra A. Coloro che amano lo stile futuristico scopriranno, in questi DAO a Clay, i migliori bicchieri polarizzati del 2020. La loro forma estesa, infatti, non è solo una caratteristica del marchio che tuttavia permette loro di sporgere dal resto, dando una particolare aggressività all'occhio. I clienti valoristano la completa mancanza di componenti in acciaio su alcune versioni, in quanto la struttura frequenta acetato, davvero leggero e molto facile da indossare. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri.